Messinesi, siamo al centro della battaglia. Niente ci fa paura, ma abbiamo bisogno di rinforzi. Quando il destino sembra scritto, siamo la speranza per poterlo cambiare. Noi sul campo, voi sugli spalti. Un giocatore da solo è un numero. Tanti uomini insieme fanno una squadra che non si arrende mai. Io ci sono, e tu?